Le 7.00 di domenica 28 luglio, buongiorno e bentrovati, c'è il conflitto in Medio Oriente oggi in primissimo piano sui giornali che andremo a vedere tra poco con delle evoluzioni che sono in corso proprio in queste ore, poi lo vedremo assieme nella prima edizione del telegiornale ossia la risposta, la temuta risposta israeliana all'attacco ieri in un campo di calcio, un missile è caduto sulle alture del Golan, ha fatto una strage di ragazzi, almeno 12 i morti, moltissimi decine feriti, alcuni in gravi condizioni si stava disputando una partita di calcio, nella giornata di ieri c'era stato anche un attacco su di una scuola nel centro di Gaza da parte dell'esercito israeliano, anche qui diverse vittime civili, appunto ve lo dicevamo in queste ore sono in corso raid israeliani proprio nel sud del Libano, quindi è quella temuta escalation che appunto di cui si è parlato in questi mesi di guerra, anche se Netanyahu che sta rientrando in Israele ha detto che non vuole, ha chiarito, che non si vuole una escalation nell'area e poi chiaramente andremo a vedere le Olimpiadi perché ci sono le prime medaglie italiane e poi ancora l'onda lunga delle polemiche per la inaugurazione, la festa di inaugurazione delle Olimpiadi che è stata considerata a tratti blasfema, anche se in realtà la stampa francese invece è di opinione opposta e Macron in realtà secondo i francesi avrebbe fatto un ottimo lavoro nel organizzare appunto l'apertura delle Olimpiadi in quel modo. Andiamo adesso a vedere allora la prima pagina del Corriere della Sera perché ve lo dicevo c'è il Medio Oriente in primissimo piano, questa infatti è la foto del campo di calcio nel nord del Libano, la disperazione a Maidal Shams nel Golan dove vive la comunità drusa dove un razzo lanciato da Hezbollah ha provocato appunto una strage nel campo di calcio la strage dei ragazzini titola il Corriere della Sera un missile di Hezbollah anche se Hezbollah ha negato sul campo di calcio 12 giovanissimi uccisi nel Golan il ministro della difesa Gallant convoca il gabinetto di guerra che si aprirà proprio in queste ore mentre Hamas accusa appunto colpita una scuola a Gaza, in questo caso ci sarebbero stati 30 morti quindi ancora vittime innocenti nella guerra in Medio Oriente poi titolo principale sulle Olimpiadi, errore accuse sui giochi, vescovi contro la cerimonia Macron orgoglioso, Salvini parla di offesa ai cristiani, la polemica era in modo particolare per la drag queen dell'ultima cena, Fratelli d'Italia addirittura parla di un gay pride intanto però arrivano le prime tre medaglie In primissimo piano questa mattina, anche questa mattina sulla Repubblica vediamo la questione dell'acqua, il grande spreco nell'estate della siccità la rete idrica italiana è al collasso, in pianti vecchi anche 50 anni un litro su quattro si perde, una quantità veramente incredibile Salvini vara un decreto per interventi da 12 miliardi ma stanzia solo 900 milioni per il ponte, denuncia la Repubblica invece ci sono 13 miliardi quindi due pese e due misure in questo caso e poi ancora la foto dei feriti per il missile di Hezbollah su Israele che fa strage di bambini drusi e poi taglio alto i vescovi i vescovi sui giochi cerimonia blasfema intanto arrivano le prime medaglie con Ganna che conquista l'argento nel ciclismo ora la stampa di Torino giochi lite sull'ultima cena offesi milioni di cristiani da Le Pen a Salvini e fratelli d'Italia nel mirino la cerimonia con le drag queen appunto bufera sull'apertura Balic che ha organizzato tantissimi eventi di questo tipo in Italia è stato uno show arrogante e il rispettoso sovranisti contro l'ultima cena olimpica al posto di Gesù una militante anche se i francesi continuano a difendere lo spirito di Liberté Galité Fraternité che ha ispirato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Francia e poi missili contro Israele strage di ragazzini Gerusalemme accusa è stato Hezbollah sono 60 le vittime di attacchi al nord di Israele nella Siscia di Gaza un raid israeliano ha colpito la scuola di Deir El Balá un razzo che Israele dice essere stato lanciato da Hezbollah ha colpito invece un campo di calcio e poi freccia d'argento Ganna che conquista la medaglia poi due bronzi nella staffetta 4% stile uomini e dalla sciabolatore e dallo sciabolatore Samele queste le medaglie conquistate dall'Italia nel primo giorno delle Olimpiadi nel giorno del debutto andiamo ora su Avvenire che riprende la denuncia dell'ONU sull'utilizzo di fosforo sul Libano da parte di Israele l'ONU denuncia il bombardamento con sostanze chimiche proibite da parte di Tel Aviv e poi appunto razzi di Hezbollah uccidono 11 ragazzi in realtà il bilancio è aumentato pronta la rappresaglia guerra totale rappresaglia che purtroppo è iniziata nella notte appena trascorsa con diversi raid da parte dell'aeronautica israeliana sui terreni nel sud del Libano ve ne daremo poi conto nel corso del nostro telegiornale andiamo a vedere ora il giornale di Milano ancora nell'obiettivo Macron e i giochi da Villano così titola il giornale la cerimonia olimpica con l'ultima cena queer indigne cristiani centrodestra italiano critico i vescovi offese non necessarie e poi vediamo che c'è un fotogramma di un faccia a faccia ripreso tra Filippo Turetta e i suoi genitori poco dopo l'arresto di Turetta è un video che risale a dicembre e sono frasi che hanno indignato perché sembra che il padre minimizzi quello che ha fatto Turetta ossia l'uccisione di Giulia Cecchettino ricorderete la sua ex fidanzata uccisa perché lo aveva lasciato la famiglia di Giulia sottolinea che questo atteggiamento da parte della famiglia tende a minimizzare ciò che Turetta ha fatto e quindi tende a minimizzare la gravità però chiaramente c'è anche l'aspetto umano che sottolinea il giornale che dice il papà di Turetta un uomo disperato che ama suo figlio quindi parole che probabilmente volevano in qualche modo tutelare il ragazzo e poi ancora Israele la strage dei bambini al campetto andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano perché il fatto fa un focus sul giubileo e sui lavori che sono in corso a Roma e con i quali i romani hanno a che fare quotidianamente cinque mesi dal giubileo zero per cento di opere finite questa è la denuncia pubblicata questa mattina in prima pagina dal fatto quotidiano di Marco Travaglio disastro capitale l'osservatorio cantierizzato solo il 18 per cento delle opere 35 milioni di turisti sono previsti ma il 65 per cento dei lavori in progettazione la scadenza slitta a fine 2025 oppure al 2026 e il terminal navale di Fiumicino addirittura al 2028 scrive questa mattina in prima pagina il fatto quotidiano andiamo a vedere adesso il domani la lunga estate calda di Meloni qui si entra nel braccio di ferro all'interno della maggioranza su diversi dossier una manovra difficile troppeliti la premier in una strettoia tra le scarse risorse per sanare il deficit e gli scontri continui tra Salvini e Tajani una pratica che si gioca pure su narrazione e immagine in Cina è volata con sua figlia per uno scatto inedito Giorgia Meloni si trova infatti in Cina dove incontrerà anche il presidente Xi Jinping bene ora sono le 7.10 io do la linea alla regia per la pubblicità e vi aspetto qui di nuovo in diretta per continuare la lettura dei giornali a tra poco le 7.15 minuti buongiorno e ben ritrovati allora lo stavamo dicendo nel primo blocco della nostra edicola è il Medio Oriente una possibile escalation sul fronte nord a preoccupare in queste ore nella notte ci sono stati il ride israeliani proprio nel sud del Libano quindi seguiremo nel corso della giornata all'evolversi della situazione appunto già sui giornali questa mattina ci sono le cronache di ciò che è accaduto ieri ossia l'attacco nel centro di Gaza sopra ad una scuola dove c'erano decine di rifugiati con diversi morti e poi il missile che è accaduto sulle alture del Golan nel nord di Israele un missile arrivato dal Libano che ha fatto una strage ha colpito infatti in pieno un campetto dove era in corso una partita di calcio almeno 12 morti molti anche i feriti qui vive la comunità drusa di Israele Esbolla ha negato di essere responsabile ecco lo stiamo vedendo questa è proprio stiamo mandando in onda la foto del campetto dove si è compiuta la strage di ieri allora andiamo a vedere la prima pagina del manifesto a questo proposito che pubblica le conseguenze invece dell'altro attacco di cui vi parlavo ossia quello dell'esercito israeliano al centro della striscia di Gaza senza appello è il titolo tre bombe su una scuola di Erel Bala ora rifugio per gli sfollati 30 palestinesi uccisi a Gaza è successo già 200 volte attacchi anche a nord Israele colpisce Libano poi missili sul Golan occupato 11 vittime nella città drusa Esbolla nega e dice non siamo stati noi poi l'inchiesta del manifesto uccisi o dispersi di 21.000 bambini non si sa più nulla sono almeno 21.000 bambini palestinesi di Gaza di cui non si sa nulla sepolti sotto le macerie persi nel caos decomposti e irriconoscibili e chiaramente tutto questo porta a traumi infantili indelebili nessuno vede il futuro e scrive il manifesto quindi bambini anche prime vittime inevitabilmente di tutte le guerre in modo particolare di questa guerra andiamo allora alle pagine interne a vedere quali sono le cronache della giornata di ieri qui siamo a pagina 2 del manifesto del scusate del Corriere della Sera il missile di Esbolla strage nel campo di calcio 12 ragazzi uccisi mentre giocano nel Golan 30 feriti Hamas colpita una scuola a Gaza ci sono 30 morti e vedete in questa cartina di quale zona parliamo appunto queste sono le alture del Golan che si trovano al confine tra Israele il Libano e la Siria e la comunità drusa del resto si divide proprio abita proprio in questa zona l'attacco alla milizia rivendica ma poi nega di aver lanciato razzi contro la cittadina vediamo le foto drammatiche di quei momenti vediamo però qual è in questo articolo sulle Corriere della Sera quali sono i possibili scenari a questo punto Israele colpirà con durezza ma non entrerà in Libano risponderemo ma non scateneremo la guerra accelera il rientro dagli Stati Uniti Netanyahu non appena arriva la notizia che Esbolla ha colpito nel Golan Netanyahu lo sapete si trovava negli Stati Uniti dove ha incontrato sia Biden sia Harris e poi anche il candidato repubblicano Donald Trump è lo scenario da incubo di tutti Israele compreso due fronti aperti una a nord e una a sud a Gaza un pericolo per Netanyahu una gioia per i ministri della destra messianica che vogliono far saltare ogni accordo con Hamas e ora vedono l'occasione più ghiotta tra l'altro proprio oggi è in programma a Roma un vertice dei servizi segreti israeliani americani e poi anche del Qatar ed egiziani proprio per tentare una mediazione su Gaza e sicuramente i fatti delle ultime ore non aiuteranno questi tentativi appunto di trovare un accordo per non cessare il fuoco ma andiamo a continuare la lettura dell'articolo dell'inviata a Gerusalemme del Corriere della Sera per la morte dei bambini piccoli Nasrallah dovrebbe pagare con la testa dice il ministro delle finanze Smotrich appunto uno dei più oltransisti del governo di Netanyahu e aggiunge il Libano deve pagare il prezzo il prezzo lo promette anche Netanyahu prima di atterrare a Ben Gurion e Zbollah lo pagherà del resto Israele ha più volte ammonito i miliziani sciiti che in solidarietà con Hamas hanno cominciato a tirare razzi sul nord del paese l'8 ottobre dopo l'attacco di Hamas ai kibbutz ma la risposta non sarà con un'invasione almeno per il momento come sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata da Sky News Arabi che rilanciata dal Times of Israel anche Washington chiaramente condanna l'orribile attacco ed esprime ferro sostegno ad Israele ancora sempre sul Corriere della Sera le terribili foto che vengono dal nord di Israele ho sentito l'allarme e poi un gran boato la corsa del medico e lo strazio dei corpi il racconto dei testimoni che sono sopravvissuti qui siamo sulla stampa invece missili sul nord di Israele strage di ragazzini a Gaza 30 morti in una scuola del resto a Gaza come sottolinea questa mattina la stampa l'80% del territorio della striscia è considerato off limits per i civili palestinesi e poi scrive Fabiana Magri Lira di Gerusalemme attacco peggiore dal 7 ottobre l'esercito valuta opzioni militari il rischio di escalation il premier Netanyahu ritorna dagli USA e riunisce il gabinetto di guerra il ministro Katz dice sono state superate tutte le linee rosse la vedremo nell'arco della giornata come si evolverà la situazione tra l'altro oggi appunto c'è l'incontro a Roma per tentare una mediazione proprio su Gaza mediazione sulla quale Domenico Quirico come è suo stile abbastanza scettico qui siamo sempre sulla stampa il tavolo delle spie è il titolo oggi a Roma il vertice per la tregua c'è Mossad Egitto e Qatar il club dei servizi segreti rimpiazza la democrazia tra inchini e scheletri nell'armadio appunto questo è proprio il punto del commento a firma di Domenico Quirico ossia che la diplomazia sostanzialmente sembra non avere più armi per tentare una mediazione appunto nella guerra in Medio Oriente andiamo adesso però negli Stati Uniti perché dopo il passo indietro di Biden è cambiato veramente tutto Harris che è la candidata in pectore risale nei sondaggi e prepara il programma entro il 7 agosto dovrà scegliere il suo il suo vice aumentano le investiture ufficiali all'interno del Partito Democratico è arrivata anche quella della famiglia Obama e poi vediamo invece l'altro fronte Trump ritorna ai toni eversivi aggredisce la rivale vuole uccidere i bambini anche dopo la nascita del resto una delle battaglie della destra americana è proprio quella contro l'aborto che appunto sta raggiungendo toni molto molto alti il richiamo ambiguo cristiani votatemi per questa volta poi non dovrete farlo più in quattro anni sistemerò tutto questo non dovrete farlo più che sta preoccupando non poco e ancora i sondaggi spingono avanti Harris qua siamo sulla Repubblica la sfida con Trump è testa a testa secondo il Wall Street Journal è a soli due punti dall'avversario e contando i candidati minori come Kennedy sarebbe addirittura in vantaggio quindi un capovolgimento di fronte totale andiamo ora alla politica italiana vi segnalo questo colloquio di Fabrizio Roncone di questa mattina con Cacciari che dice il governo cadrà elli stia pronta i Berlusconi si sono scocciati di dover restare per forza nel centrodestra in questo modo Cacciari interpreta le parole pronunciate da Pier Silvio Berlusconi nelle scorse settimane che diciamo ha dato un po' ha buttato ha soffiato sul fuoco un po' delle polemiche e degli attriti interni ai partiti della maggioranza che riguardano diversi dossier a cominciare dall'autonomia differenziata e poi soldi per i fondi per il mezzogiorno ma andiamo a vedere cosa dice Cacciari iniziamo dal secondo capoverso dice Cacciari in questa conversazione guardi Lashlein si è salvata la pelle alle ultime europee ed è stata abile nel riuscirci ha capito che doveva cambiare il racconto del PD forse è rimasta sulle tracce narrative di Renzi Letta Zingaretti avrebbe racimolato un 10% forse invece ai classici polverosi discorsi dei dem italiani ha aggiunto nuovi temi che poi nuovi non dovrebbero essere ma insomma le va riconosciuto che si è messa a parlare di diritti civili e di diritti sociali non poco di questi tempi dice Cacciari il centrodestra e centrosinistra vivono fasi di confronto acceso sul primo fronte tra Forza Italia e Legacy susseguono le punzecchiature per ragioni di concorrenza elettorale questa è l'analisi di Cacciari sull'altro fronte continua il tentativo di saldare di un'alleanza stabile PD Movimento 5 Stelle allargata invece al centro andiamo ora a vedere le pagine di cronaca che hanno in primissimo piano la siccità abbiamo visto la Repubblica ha deciso di aprirci Sicilia il business dell'acqua i disalatori chiusi da 12 anni emergenza siccità una dopotte costa il 250% in più il viaggio da Catania a Caltanissetta bruciati grano fieno alberi da frutto l'agricoltura sta sparendo e c'è un'intervista a firma di Felice Cavallaro allo scrittore siciliano alaimo il ponte è solo un diversivo qui noi abbiamo sete dice alaimo la politica è distratta noi siciliani troppo indulgenti alle urne resettiamo tutto ora siamo invece eccoci sulla Repubblica pagina 2 siccità per l'Italia setata zero progetti in 30 anni così si spreca addirittura un litro su quattro l'unico investimento sono le tariffe minimi in Europa mentre i consumi pro capite sono i più alti risultato invasi inefficienti reti obsolete nessun riuso e la politica scrive la Repubblica si risveglia solo nelle emergenze per chiudere l'avevamo visto in prima pagina qua siamo sul fatto quotidiano 5 mesi al via del giubileo 0% di opere completate certo Gualtieri deve correre se vuole arrivare pronto l'appuntamento con il giubileo la rassegna stampa si chiude qui io vi aspetto tra pochissimo dopo la pubblicità per la prima edizione del telegiornale ma intanto do la linea Paolo Sottocorona a tra poco si grazie buongiorno la giornata di oggi escludendo il centro sud che rimane con un cielo sereno poco nuvoloso presenta al nord una zona di forte instabilità che prende Lombardia parte della Lombardia Trentino Alto Adige Veneto poi qualcosa c'è in maniera più isolata c'è anche sul Piemonte sull'Alta Lombardia sul Friuli Venezia Giulia però vedete questa zona presenta queste macchie piuttosto estese piuttosto ampie di forte instabilità quindi fenomeni anche molto intensi quindi non in maniera punto per punto è proprio tutta una zona non solo passando alla previsione per domani rimane in quella zona una forte instabilità quindi sono due giorni che probabilmente di più nel pomeriggio che nelle altre ore però i fenomeni sono anche piuttosto intensi perché il rosso sono quantità molto molto elevate sul resto del paese continua a non succedere niente nella giornata di martedì si attenua questa instabilità rimane la solita debole situazione con debolissime piogge sulle zone alpine sul Piemonte qui la parte sud occidentale forse appena di più per il resto se va bene passa qualche nuvola se no non passa nemmeno quella vediamo le le minime di questa mattina abbiamo qualche caso di valori un po' più elevati perché ieri le temperature massime sono salite quindi trascinano trainano le temperature minime vedete parte dell'Abruzzo del Lazio comunque del sud anche con valori minimi piuttosto elevati chiudiamo con lo stato dei mari che sono assolutamente tranquilli il colore questo un po' più scuro che vediamo a largo del mare di Sardegna che sarebbe poco da poco mosso localmente mosso non esiste in nessun bacino intorno all'Italia quindi i mari se li diamo per calmi secondo me sbagliamo poco se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale a più tardi di Sardegna di Sardegna